Ciao amici benvenuti in questa nuova video di prima dalla redazione iscritti diretta da uno misterioso da Lady Blue e dal vostro amico Bomber. Iniziamo con una piccola notizia leggera allora come ben sapete Dragon Ball Z Kakarot arriverà su PlayStation 5 Xbox Series XS nel corso del 2023 anzi per l'esattezza uscirà tale versione per il 13 gennaio 2023. Ovviamente chi me lo domanderà diciamolo già subito che chi possiede già il gioco per PlayStation 4 Xbox One potrà fare l'update gratuito. Da Badai Nanco e da CyberConnect2 arriva questo nuovo annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Questo nuovo DLC praticamente senza dire troppo il nome comunque si chiama Bardock Alone in Ghast Fate Battle on Planet Kanasa. Approviamolo solo con DLC perché il nome è molto lungo. Comunque è un DLC che viene incluso nella storia originale e si colloca tra gli eventi che diciamo portano all'inizio dello scontro con Freezer. Mi fermo qua perché i dettagli su questo nuovo DLC sono veramente pochi. Non si sa se verrà messo come Season Pass 2 o se magari verrà già incluso nell'edizione che uscirà quella completa con tutto l'update gratuito eccetera eccetera il 13 gennaio. Si sa solo che questo DLC è una storia originale che si ricorda con gli eventi di Freezer, con lo primo sconto con Freezer. Ecco mi fermo qui. Direi da passare alla prossima notizia ci vediamo tra poco. Chissà se questo gioco di strategia alla XCOM sul francese di Warhammer arriverà più avanti per console. Comunque Chaos Gate Demon Hunter. Gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo DLC chiamato Dauntie Eternal. Praticamente chiamata dell'Eterno. Tradotto in italiano se non erro. Comunque il nuovo DLC mette in campo due nuove classi. Il Touch Marine e ovviamente il venerabile Dreadnaught. Armato di tutto il punto si potrà anche potenziare eccetera eccetera. In più aggiungeranno anche nuove missioni. Ovviamente questo nuovo contenuto richiede il gioco base per poterlo utilizzare. L'uscita di questo DLC nuovo per chi ha la fortuna di giocarlo su PC bello performante uscirà il 6 di dicembre. Quindi ragazzi vi lascio il thriller giusto per darmi un po' un'idea di questo gameplay. Comunque il gioco lo trovate su Steam a un prezzo diciamo abbastanza budget. Non è maluccio. Io ne ho sentito parlare anche piuttosto bene. Non vedo l'ora magari più avanti appena avrò l'occasione di metterci mano sopra. Sempre in ambito PPC è stato presentato un nuovo video di un nuovo RTS molto atteso in seguito di Man of War. Come ben sapete l'abitazione, il periodo storico è nella seconda guerra mondiale. Sviluppato con il motore grafico proprietario Gem RTS prodotto da Fulcrum Publishing sviluppato da Bestway, Gen RTS, lingua purtroppo in inglese quindi non c'è nessun doppiaggio neanche i sottotitoli in italiano, a meno per il momento per quanto riguarda le informazioni su Steam, in uscita nel 2023 su PC. Il nuovissimo thriller pubblicato dalla marca di sviluppo, dalla Publishing, fanno mostrare alcune scelte di gioco, qualche combattimento. In più ci viene detto anche che l'abitazione potrà subire danni durante gli scontri. Insomma il gioco dal punto di vista, dalle premesse anche, sembrerebbe essere molto realistico. Speriamo che mantiene queste premesse perché potrebbe rivelarsi un ottimo RTS e magari anche un degno rivale di Company of Heroes. Vedremo un po' com'è. Chi come me è vecchio di stampo, naturalmente si ricorderà di questo film di fatascienza, Stunching Trooper, che era un film del 1907 se ne mi ricordo e molte marche di sviluppo hanno fatto diversi videogiochi su questo franchise. Ovviamente adesso il turno di Offworld Industries che ha mostrato a sorpresa un nuovo thriller basato appunto su Stunching Trooper, chiamato Extermination. Sarebbe un FPS cooperativa online, diciamo un po' come Left 4 Dead, se vogliamo proprio dirla tutta. Infatti la descrizione di gioco, che oltretutto oltre a annunciare il periodo di uscita nel 2023 per il momento su PC, forse non è detto che arriverà anche per console più avanti, sarà pubblicato anche in Area Access, cioè in accesso anticipato. In questo gioco potranno, diciamo, giocare ovviamente contemporaneamente 12 giocatori. Ovviamente la loro missione sarà tentare di sopravvivere con l'anno e mezzo agli assati degli insetti alieni, utilizzando non solo le armi, quelle ovviamente prese dal film, ma potranno anche costruire fortificazioni. Ad esempio costruire barricate, torrette di guardia, torrette armate, insomma di tutto appunto per cercare di sopravvivere e nello stesso tempo completare le missioni procedurali proposte ovviamente dal gioco. Graficamente non sembrerebbe Maluccio, in uscita per il momento nel corso 2023 in Area Access, quindi se in caso vi piacciono questi giochi, potrebbe essere diciamo un titolo molto interessante. Bene ragazzi, questa è la fine della video di prima, piccolissima, leggera, spero che vi sia piaciuta. Nei commenti fatemi sapere un po' le vostre opinioni e noi ci vediamo per i prossimi video. Sempre in descrizione trovate come sempre le solite informazioni per quanto riguarda la redazione. Un saluto dal loro misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bombe. Ciao a tutti, bye bye! Ciao a tutti, ciao a tutti.